Hey la ragazzi e salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su The Legend of Zelda Twilight Princess La scorsa volta ci siamo lasciati qui all'ingresso per il quarto dungeon Siamo al quarto dungeon, ovvero quello del deserto Come vi ho detto sono andato da Birbo, ho aspettato il giorno Ho scoperto che per far passare dalla notte al giorno, o comunque dal giorno alla notte per far cambiare l'orario Dovete essere nella pianura di Hyrule, perché dentro le città non cambia il tempo Sono stato penso 20 minuti buoni ad aspettare dentro il calbarico che aprisse il negozio di Birbo Non apriva perché era sempre notte Poi sono uscito neanche due minuti fuori nella pianura di Hyrule e ho cambiato subito in giorno Vabbè, questa è una cosa che non sapevo Adesso la so quindi se voglio far passare il tempo vado lì Come vedete ho 20 rupie quindi abbiamo tutto il budget disponibile per rubare di tutto qua dentro E iniziamo Questa sarà un'altra parte lunga e bella e divertente E io sapete che mi ricordo questo dungeon? Aspetta, 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 aspetta Calmi, calmissimi Calmissimi, com'è che si cambia l'oggetto? Ok Allora, qua mi serve Mi serve preoccuparmi anche, soprattutto mi serve preoccuparmi Perché sto dungeon è brutto Brutto tanto Brutto tantissimo Io mi ricordo, allora c'è un nemico Che fa veramente paura E questo me lo ricordo, una tipologia di nemici più che altro Il resto è difficile semplicemente Patibolo del deserto Spam, quarto dungeon Allora Subito, una cosa che devo dire Queste, eccole qua Le mini, le mini cose Non so come che si chiamano queste schifezze Però devo non morire Allora Non mi ricordo Ricordo come funziona Non mi inghiottire Ok Vabbè, naturalmente come avete visto Ci sono le sabbie mobili E fin qua Ok Come si sopravvive le sabbie mobili Non si sa Rotolando teoricamente Però per fortuna Dato che abbiamo il rampino Possiamo usare questo Il problema è che se cadete direttamente lì in mezzo Morite Bene Ora Fatto presente di ciò Ok Liviamoci subito Quei robbi Perché ho paura che mi trascinino giù Nella Uuuuh Uuuuh Ma quanti sono? Spera, 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 spera Calma che ti ammazzano Ok Eh, sono impessati quei rovi Ma tanto Ok, lì c'è un rovo Ah, non potete rotolare nella sabbia comunque Anche perché comunque quando siete già giù di sotto Scavati, ne è inutile rotolare Qua ho visto qualcosa Che schifo Ma sti scheletrini c'erano? Uuuuh Aspetta, perché loro non si atterrono? Uuuuh Che è sta mafia? Posso prendere quello? Vieni, vieni Vieni fuori Oppala Bravo Bravo Link Come cacca si fa sto pezzo Con quei cosi? Madonna Io già l'odio sto posto Ma mettete gli stivali Ok Bisogna aprire la porta là di fianco Il problema di sta roba è che se Se l'aprite che siete sulla sabbia Ok, lascia Se l'aprite che siete sulla sabbia E venite T'ho una chiave Ah Ah, ok No, aspetta Cosa sta succedendo? Uuuuh Questo è carino Oppala E via Così l'abbiamo recuperato Vedete che mi ricordavo che c'erano sti Sti calderoni Ah, è qua Di qua Ok C'erano sti calderoni con la roba Questo posto è troppo tranquillo Perché c'era solo sto pezzo? Uuuuh Uuuuh Ma cos'è? Uuuuh Le pieghe d'Egitto Ma cos'è? Aiuto Aiuto Che schifo sono Scarafaggi spero Uuuuh Spero siano davvero Scarafaggi non ragni Se non ragnero Quei roba ti impediscono i movimenti Che schifo Ma io qua non ci vedo niente Uuuuh Aiuto Aiuto Basta Basta Infatti è schifo Un' servirà Ogni volta Vedete allora Si è chiusa la porta quindi senza quei fuochi messi lì Non Non si apre la porta Ora uno è rimasto qua Cosa si fa? Ci si trasforma il lupo perché noi non possiamo vederlo E lo si vede Mamma mia se sei brutto Sei proprio brutto Ma si proprio brutto 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 assai Cosa fa? Mi ricordo che ci avevano Tipo ognuno dovrebbe avere Una strana tecnica Queste sono le anime di spettro? Ah ok Ci danno le anime di spettro questi anche Va bene Questo non me lo ricordo Quindi arriviamo praticamente a cinque anime obbligatorie Perché sono quattro e una che abbiamo preso Obbligatorie Quindi per quello non c'è Uuuuh C'è l'odore degli spettri Odori di ieri e prendi un altro odore Si Si se ne frega di ieri Odori di spettri Ok così possiamo trovare gli altri Porca vacca Eh sto dungeon allora è più incasinato di quanto potessi pensare Perché non solo Ok apri Giù C'è non solo doveva recuperare questi spettri Ma c'è tutta anche la trasformazione Link Lupo Link Lupo Lupo Link Lupo Link E cose Proprio così Ed è un casino Ah va se è un casino È un casino Però qua ho visto qualcosa Che mi interessa Si riesce ad aprirlo cos'è Buono Cacchio Buttato così è regalato Ah va bene Cioè io lo sai che accetto tutto Allora lì si va anche di sotto Però se noi andiamo di qua A parte che ci sono delle pantegane Che sono grosse Come quelle che ci sono da noi nei fiumi Voi dovete sapere che da noi nei fiumi Si trovano queste pantegane qua Abbiamo dei fiumi molto puliti A parte quello Lì c'è il gancio Che mi C'è qualcuno che vola Che che svolazza No di qua non si può Non ancora Mi ricordo anche questo Avete visto che c'era il gancio Il gancio lì Sulla colonna no Perché quella stanza in teoria ruota Forse da qua sotto Si la faccio ruotare da qua sotto Ah è il sotteschio che svolazza Ehi Che famo vieni giù Ok Non ricordo male si trasformavano anche alcuni No Eh va bene Ok Allora questa roba si dovrebbe spostare E dovrebbe spostarmi il posto lì sopra Eccoli Eccoli Quelli brutti Io lo so che li conoscete anche voi Perché questi Chi è Mazzolink ma che forza c'è Ah raga questi qua sono veramente brutti Ma brutti Io lo so che li conoscete Oddio Ocio Ocio Voi lo sapete come si chiamano questi Che io non mi ricordo più Questi sono i dead I re dead Bisogna stare attentissimi a sti cosi Perché ci hanno Un sacco di vita Come vi ho detto Ci ho messo un paio di colpi per farli Vabbè che vi danno un sacco di rupie Ma chi se ne frega Ci volete mettervi Cagarvi addosso Mamma mia Quelli sono i re dead Che praticamente Il loro attacco è Paralizzarvi Con l'url Le robe varie E successivamente Vi attaccano con Con la spadata Allora Eccoli Guardalo 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 Che si è aperto Ma io mi ricordo Dai tranquillo Tra l'altro Aspetta eh Opa là Perché in teoria Ok In teoria Avete presente che c'era La porta la potevamo vedere L'avevamo vista con la porta Con Con la porta con Con le catene No? Abbiamo trovato la piccola chiave Quindi noi potremmo Tornare indietro E boom Queste cose Si lievano Grazie Cosa fai? Aia E vabbè Ho preso Ma chi se ne frega Maldiavo Prendi sto coso Dai via Su Ciapa Sai che fa questo Scusa Non fa un cacchio Io mi ricordo che tipo Facevano un attacco Un qualcosa Non fanno niente In teoria forse Si possono colpire Solo se Se sono diventati viola Perché avete presente Che sono trasparenti Poi diventano Un po' più violetti Durante Un Un certo Un momento In teoria Si potrebbero colpire Solo lì Va bene Non c'è nient'altro Sembra di no Sembra di no Ottimo E appunto Sta cosa andava fatta Per Per questo pezzo Ora Vi ricordate Che abbiamo la chiave Quindi scendiamo E Non so se posso Spingere col lupo Non credo Perché non c'è la forza Comunque Sta roba degli spettri Mi piace un sacco Perché mi ricorda un sacco Ocarina of Time No di qua non si muove Ok quindi C'ha solo 8 movimenti Non è che posso Spostarla come voglio Uno in lì Ah no C'ha solo due movimenti Quindi per forza Ah ma allora È più facile Di quanto pensassi Mi pare di averci Con Mr. Bob Di averci messo Un sacco di tempo Oh c'è un altro Scrigio là A destra Quasi quasi Possiamo andare a prendere Anche quello C'è che ci siamo Eh sì Comunque Ti contano Le anime di spettro Quindi Se avevano detto Che erano 20 Ne abbiamo 20 Ne abbiamo 20 Ne abbiamo 5 Prendibili Per forza Ho c'ho qua Bravo Almeno Allevati Perché loro non cadono Perché solo io cado Aia Fammi Non impio gli scrigni Maledetto La scrigna Posso fargli colpi di grazia Anche a loro A caso Con che violenza Devi farlo a uno scheletro Mappa Cacchiera Qua di fianco Ho preso prima Il portacuori Fai te Fai te Ok Abbiamo la mappa Eh abbiamo la mappa Che è molto incasinata Io davvero Me lo ricordo Da sto dungeon Ed è veramente Veramente lungo Sì ma lì Se non ti schiantassi In ogni 3x2 Faresti anche un favore Allora Aspetta Fammi finire Sto pezzo di qua Che Che l'abbiamo lasciato Perché appunto Abbiamo sbloccato Vedete C'è tutta la porta di là Abbiamo Abbiamo la piccola chiave Quindi possiamo aprire Sto robo Questa bottola Era quella Da dove Siamo venuti Da sotto Opa là Ah raga Non davvero È È impestato Duro Sto dungeon Me lo ricordo Me lo ricordo Ancora Ci abbiamo messo Un'eternità Aia Aia E io che ne so Da dove vengono Queste cose Che fai a trovarle Ma levati Che palle che sono Ma levati Davi il cuore Niente Scusa Ok È caduto Da qualche parte Ah Mi ha liberato Lì Quindi io Dovrei mettere Lì in teoria Così da sopra Ci passo Opa là Eh no 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 Questo è È difficilissimo Oh c'ho Guarda lì La camera Delle torture C'è Questo cosa Mi tira Su quello Per poi Passar lì Ma va A tempo Penso di sì Ah ma di qua Non c'è niente No 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 ridamolo Ah Quindi dobbiamo fare Una corsetta di là Vedere se con gli Ma con gli stivali È ancora più impedita Forza 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 Vai 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 Fregatene di stivali No Qua c'è un altro redhead Vedete che ci sono gli redhead Perché davvero Io spacco Io li odio Quei rovi Ma Adesso Più che altro Qua sono fatti bene Ma è no Ocarina of time Erano Impesta Erano bruttissimi Erano delle robe bruttissimi Oddio ma va in fiamme Se cosa Eh va bene E ti è andato fuoco Te sei scemo Ok Questo c'è dei problemi Purtroppo Ed è riuscito a colpirmi Quello è il fatto Ok abbiamo anche la bussola Good Questa si può spostare Yes Questa è lo stesso Meccanismo Di Dall'altra parte Oppa là E via Ma perché me ne mettono Di continuo Di sti robin Ma fa Basta Dai Funziona Funziona Con le bombe Ma io vi sbombardo a tutti Voi non l'avete capito Io consumo tutte le bombe Che c'ho Non me ne frega niente Ok 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 Si posso farlo Cacchio Scherziamo Io quei robin Non li sopporto Più che altro Anche perché ci metti Sei giorni a combatterli Dato che C'hanno un sacco di vita Ti fermano Ogni tre per due E che cacchio Ok Piccola chiave ottenuta Va bene Adesso stavo pensando All'altra cosa Ogni dungeon Non c'ha Ah c'ho lo Ok C'ho lo spettro Adesso devo aver sentito Il Eh oh Cos'è qui Ah ecco No no L'ho sentito bene No 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 Aspetta 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 Cagli Guarda lì E E Un dietro l'altro E via Pulizia totale Stai lì Io ti sbombardo Io non ti tocco più Te non hai capito E via Guarda che c'è un altro Ma è pieno È pieno Allora L'ho sentito Lo spettro Vero È qui Però non vi danno Le bombe Queste cose Allora Lo spettro è lì dietro Se non ricordo male Lì poi col lupo Scavate E Andate avanti Però adesso Non lo volevo fare Olmino Cosa mi cambia Cosa mi cambia A me Forse niente Ok piccola chiave Ma perché me l'ha messa qua Che lì c'è la zona No 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 Ho sbagliato il tasto Ho capito io cos'è I topi invisibili Porca miseria I topi invisibili Infami Mannaggia Mannaggia no Questi me li ricordo io Questi me li ricordo Sono impestatissimi Mamma mia Davvero le pieghe Delle Dell'inferno Qua Fate basta eh Oh ma c'è uno Allevati Che schifo Guarda 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 Che c'è il profumo lì Infatti Mi ricordavo Che si scavasse C'è l'ho visto Opa la Non posso tirarlo col cane Salve Buongiorno Sì quando è viola Grazie Gentile Ok con questo qua Siamo a tre Però stavo notando Che lì forse Si va avanti Lì si va da qualche parte Va bene Poi quello L'andiamo a recuperare Perché non mi ricordo Se bisogna Trocare niente Vedete che là Dalla minimappa Si vede che si va avanti Ma ancora Ma siete tornati Ma levatevi Guardi Guardi Fred Come partono Il primo piano Bellissimo Del top Spettacolo Ok Allora Dobbiamo andare di là Non so dove si va di qua Siamo sopra Ho capito dove siamo Ok tre Ne manca una Siamo sopra Piano Non so minimamente Dove siamo Però forse A questo punto In teoria È tutto collegato Lì Piano Pianissimo Ok lì ho capito No Su Allora ho capito Qua bisogna tornare Essere umani Dobbiamo spostare Quella roba Questa qua Per poi tirar la corda Che è una corda In realtà È un È un gancio Che cacchè Però qui c'è questa Grazie Roba regalata Va bene Sempre comodo Allora ci mancano Da birbo Ma perché sono tutti Imbecinisti Stossi scheletri Ma che problemi C'ha Dai levati Da birbo Ci mancano Circa 200 E qualcosa Rupie Vedete che da qua Si entra Ok ci siamo No ci siamo Ci siamo Da qua si entra Si arriva nella stanza principale Che adesso Non ci serve Quindi dobbiamo andare di qua Per forza Poi non so se Il giro che ho fatto io Era giusto Era corretto Nel senso che Si doveva fare prima Quello che ho fatto io Si poteva fare anche dopo Però beh vale Non lo so Solo che si può fare così E Ah ok Sale Forse dovrò spostarla Ancora di più Yes Olè Ah beh Era fatto apposta Ok Allora di là però Dov'è Di là C'è uno scrigno Che fai Non lo tiri su Eh Allora tira su questo Andiamo a prendere lo scrignetto di là Che tanto non c'è più niente Perché mappa e Bussola le abbiamo trovate E ok Via 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 Fugue Cosa ci dà questo però Utile Utile per l'avanzamento del dungeon Sicuramente Certo Comprendo Comprendo Tantissimo No Aspetta No Ok E allora Aspetta Io come faccio Ad andare avanti Di là C'è capisco Che quello mi serviva Ma devo comunque Andare avanti A meno che Di qua No Posso salire No Cioè Dovrei andare Lì sopra Lì Come faccio Andare lì Per andare avanti Perché devo salire Sul coso E' complicatino Sto pezzo Ok Devo arrivare lì in mezzo Io No ma non posso Sento dei versi stranissimi Ah devo andare No da lì Da lì ci arrivo Aspetta ma scusa eh No Io da lì Non ci sono Neanche arrivato Scusa Allora Quello è il piano Di sotto Probabilmente Da lì si sale E si arriva Al piano di sopra Però è strano Perché scusa Allora c'entra Qualcuno Aspetta A meno che A meno che Aspetta 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 Ho capito Devo andare in mezzo Vedete lì che c'è la La scanalatura Devo andare lì E fermarmi Ti prego Funziona Non mi schiacciare Per favore Genio Yes E via Ok poi di là si arriverà Magari facendo il giro E robe varie Chi se ne frega Importante aver capito Sto pezzo Genio Bravo Eric Complimenti Oh Ah no Aspetta Non è un redhead Quello Non è un redhead Ok 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 No Io inizio a preoccuparmi Ma per carità Anche questi Sono abbastanza Fortini Questi Sì sì Tranquillo Bisogna Bisognerebbe fargli Un po' di attacchi Strani Aspetta Non è finita O sì Non mi ricordo Se andavano fatti esplodere Vedi che Guarda che c'erano le bombe Perché sti cosi Si ricompongono Ah me li ricordo Me li ricordo bene E via E giù terra Allora aspetta un attimo Scusa Ah ok Non posso tenere Porca miseria No cos'è che ho tolto qua Il rampino Non posso tenere Bombe Addio amico Bombe e arco e bombe Insieme Ah ok Non apriva nemmeno Finchè non li uccidevo Ah bene Ah bene Si dovrebbe essere Uno screen Forse anche di là Queste cose Non mi interessano Ecco Se ci sono delle rupie Forse è meglio Ecco appunto Sto dicendo Che ci mancano Circa 280 rupie Per birbo Ah di qua si va avanti Di qua si va indietro E di qua c'è lo scrignetto E grazie Anzi Fatemi vedere Se abbiamo tirato su tutto Dietro In mappa Perché non vorrei Dimenticare Sempre qualcosa Allora Stanza nera Abbiamo detto Che tanto Non sono quelle esplorate Quindi Mi basterebbe Vedere quelle verdi Ok Lì c'è il boss Siamo a cavallo Circa Ci siamo a metà Che ci starebbe Va bene 35 minuti Va benissimo Ah Ok Mi ricordo anche questo Mi ricordo anche questo Era da accendere Però succedeva qualcosa Perché sono da accendere In ordine Qualcuno che mi spieghi L'ordine No Cioè Mi ricordo che c'è Un ordine da seguire Ma non me lo spiega Nessuno Quella porta è quella Che si deve aprire Qua se Quando sbagliate Una cosa Vedete Vi sbombardano Tutti Penso che si Si debba andare A tentativi Ok Non so se Si deve andare A tentativi Allora Quello è il primo Questo non è il secondo Ok niente Peccato Ogni volta Se sbagliate Vi arriva l'ordine Di pipistrelle Di quei rovi Non sono pipistrelle Ma Ciò fa assurdo Ma fate schifo Davvero Allora Accendi uno È difficilissimo Allora proviamo Uno cinque Ok Ok Ah erano solo due Da attivare Quindi tutti gli altri Erano sbagliati Era uno cinque Vabbè Questo non è uno Facciamo zero cinque Va bene Ottimo direi Non abbiamo neanche Incontrato Polli molli Comunque ancora Non so se vi rendete Conto Siamo arrivati Piccolo Siamo venuti A prenderti Vieni qui Ah è l'ultimo Guarda L'ultimo è particolare Guarda Me lo ricordo io Io me lo ricordo Lui L'ho detto Che si sdoppiava E ora come lo trovo Forse è lui Non lo so Sa di fatto che Dovrebbe essere Quello che diventa Viola Ah no È lui qua Ma selezionalo Dovrebbe essere lui Che l'ho mirato Ho detto Tielo mirato Dammit Lui Yes Ok Quando diventa Viola Confermo Quando diventa Viola È quello È il nostro È il nostro Obiettivo Ma sei ancora tu E che mi è tendata Di sfiga Comunque Mi dispiace Dirtelo Ma ti è andata Di sfiga Ok Cinque Cioè Quattro spiriti Cinque anime E teoricamente Basta Cioè A questo punto Le raccogliamo tutte Perché sono obbligatorie Finito il gioco Ok Qui c'è l'anima Piccolina Che svaga Dove devo andare Da che parte Di sopra Sopra di qua Tanto non c'è nient'altro Ok Allora siamo sopra Siamo sopra Ci serve qualcosa No No In teoria no In teoria No Perché Noi adesso ci lanciamo Di là Bravo Link Sempre più mira Siamo arrivati col quarto Adesso possiamo andare avanti Ottimo E il primo pezzo è fatto 40 minuti Sì Contando che dobbiamo battere Il primo mini boss Raccogliamo l'oggetto Poi dopo raccolto l'oggetto C'è tutto il pezzo Da fare con l'oggetto Tra 62 ore Abbiamo finito Direi Per fortuna Se tutto va bene Aspetta Non ho sbagliato il tasto Volevo aprire la mappa Per vedere Allora quelle sono prese Ok qua Non c'è un cacchio Ci manca Tutta quella stanza Che sono tutti i tesori Che si prendono Me lo ricordo bene Con l'oggetto Poi però Trovato l'oggetto Possiamo muoverci Molto Liberamente In giro Per cosa Ah guardate Tra l'altro Già Ok che fa Si è bloccato Ma levati Guardate già lì Che c'era il C'è un Come c'è Che si chiama Per terra Questo non possiamo Prenderlo Ok andiamo di qua Lì c'è la chiave del boss Andiamo di qua E cosa devo fare Devo scendere con questo Che palle Davvero Alevati Cioè devo scendere Tutto A rampino Che sono storto A mirare Come non so cosa Anche Per di più Dovrebbe esserci una Alevati Dovrebbe esserci Dovrebbe esserci una cassa No non è qua È sopra Oppala Lì sopra Dovrebbe esserci Una cassa Un qualcosa Che vorrei Sinceramente Sai com'è Sai com'è Allora lì si passa Un attimo Joule Capisco è tutto Ma Lì C'è una cassa Cacchè Non mi aggravo più Ah Ok Ah qua si butta giù Ah sale Grazie Ah grazie un cacchio Infami Passo di qua Oh c'ho Non ti tocco Tranquille Ok chiave Quindi serviva Per forza L'obbligatoria Bene Stavo andando avanti senza Togliti Deve andare giù noi In teoria abbiamo pulito qua Quindi scendi Grazie Uno Dos Ancora Tres Ancora un altro No Sono arrivati Così Ok E via Dove è sto boss Voglio battere il boss io Il mini boss almeno Perché là c'è un coso Oh Qua ci sono Eccoli Porca miseria Me li ricordo ancora Queste cose Questi sono i ragni I believe I can fly Bisogna stare attenti Perché Non ti permetto Oh Oh Il lupo imbecille Cioè sta lì Uff Uff Grazie Uff un cacchio Uff Uff Ma Ma leva Ma porca miseria Guarda 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 Lo uff Un cacchio Ma è scemo Sto uff Dai uff Dai uff Levatelo Doso Chifo di roll A sto posto era Me lo ricordo ancora Perché era I believe I can fly Piano Leva tutto Deve andare pianissimo Non ci sono scrigni Però Perché no Qua mi serve Il link umano Non ci sono scrigni Questa è una cosa Positiva Diciamo Vasti giù E corri E corri Dai E link Dai E link Oh mamma Non so cosa ci fosse di là Però c'era Fammi vedere se mi si è aggrappato qualcuno Che soldi Scassa palle Dai Aria Ok No non tira le testate Tranquilo Stai can Ok Sto posto Eh Ci siamo Ci siamo quasi Che schifo Ci siamo quasi Quella blu E polli Molli Ah Ok Va bene Stellina Tieni presente Blablabla Te portalo fuori Ok Blablabla Quel puntino Azzurro Sulla mappa E polli Molli Ma le vai mi se piaghe Valla che schifo Schifo di roba Ok È una cosa che so adesso Almeno Oddio ma non finisce più Sta roba Ma non finisce più Allora almeno non mi devo preoccupare Io mi preoccuperei comunque Non mi devo preoccupare dei Dei bauli Adesso li so No devi lasciarli stare Quelli Cerca un modo per andare avanti Che devo arrivare di lì Devo arrivare di lì Come cacchio ci arrivo Occio 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 E via E un giro E un altro giro Uh Falli fuori Una per te E una per te Buon compleanno No cosa Come hai fatto Come hai fatto a sopravvivere Alla tua morte Occio però link Occio link Che cacchio Dai cacchio Ho fatto un regalo bellissimo Anche Me lo rifiuti così Sei ingrato Dovrei andare lì io Lì c'è quell'altro però Fanno saltare per aria No Sfinga Dai svegliati Ti è andata bene Che sei invincibile Uh Ma questo c'ha lo scudo di ferro Ok quindi C'hanno scudo di ferro E scudo di legno Alcuni Ottimo Questo era sfigato Ti è andato uno scudo forte Ma eri sfigato te Lasciatelo dire Ma di qua io non vado Ah Ok Ho capito Adesso ho capito Dove che era? Quel posto dietro Sì Adesso ho capito Cos'è che mi hai aperto Che cazzo No di qua Da dove arrivo Che cacchio è successo? Perché non mi ha tipo Tritato la testa? Oh c'ho ste cose Muoviti Aiuto Ah basta Ok basta rotolare in teoria Dai Link Levatele Che mi fanno schifo Ok piano Che lì si cade Che schifo di robe Allora ci siamo Ci siamo Calmi Siamo dal boss Stanza rotonda Dal mini boss Aspetta Ma chi era il boss? Oddio No no Aspetta Perché se Se lui è il boss Cioè scusa Se lui è il mini boss Io mi ricordo che lui fosse il mini Il Che è che sto dicendo? Ok Ah dobbiamo tagliare ste corde Come vedete C'è una spadona enorme In mezzo E qua ci sono Tutte le cordicelle Con i talismani Quindi una cosa del tipo Cioè Non toccare Ok? Non ti conviene E noi l'abbiamo toccata Giustamente Bravissimi Complimenti È un po' come quando C'è scritto Non toccare Però è scritto In un'altra lingua Quindi non lo sappiamo E E non lo tocca nessuno No in realtà Si tocca Ok Allora per vederlo È sempre uno spirito Quindi Bam Io ragazzi Vi posso giurare Che sta cosa è bruttissimo È bruttissimo Allora come si fa? Lo schivate con Quando lui attacca Diventa colpibile Sei brutto Ma forse adesso è colpibile Anche da link umano Se non ricordo male Yes Perché va fatto col rampino No Metti via Vabbè vabbè prego Ocio In teore si può fare Anche con link umano Non mi ricordo Bisogna forse colpirlo Oh oh Ok Sì ma non posso Tenerlo sotto controllo Oppala E poi le date Le scaposciate Nella capa Ok bisogna Bisogna stordirlo Con il rampino Quindi far tipo Una cecchinata Bam Inizia a girare Ok fai quello che ti pare Poi arriva giù da noi Lo schivate E sbam E sbam Quanti colpi vuoi? Quanti colpi vuoi? Ancora? Non ti è passata? Uh Predict Vieni 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 qua vieni Vieni da paparino Che ti sistemo io Ti rifaccio il bel faccino Che ti ritrovi Uh No ancora Ah Ok Perché è tornato così? Perché è tornato spettro Che non me lo ricordo Non è normale Non è normale Che torni spettro Forse non l'ho colpito Abbastanza io Non sono riuscito A demolirlo Mentre era Visibile Può essere anche quello eh Allora adesso Praticamente Li mancherà un colpo Ti mancherà un colpecino a te Ok Eh guarda te Mi hai fatto prendere un colpo Ho detto Ma quanta cacchie di vita c'ha Sta roba Che Che l'avevano ucciso subito Eh Ok niente In teoria si fa Con tre giri Uh Oh bello Spettacolo di magia Cos'è? Oppala Possiamo andare a reclamare il nostro premio Finally Il mio premio Eh guarda ancora Disco roteante Usato nell'antichità come veicolo Per spostarsi in aria Nell'antichità Segno la B Ok Premi B Mentre sei sopra Con la forza ciclonica Potrà anche attaccare i nemici Ok E questo E questo è ciò che ci servirà da adesso in poi Quindi Io direi che possiamo levare Gli stivali Penso Possiamo provare a levare gli stivali E sbam E sbam Vi agganciate i muri Vedete che ci sono ste Ste rotaie Diciamo E via E il gioco è fatto E' bellissimo Me lo ricordo ancora Mi ricordo quando Con Mr. Bob L'avanti ruota Era apprezzata l'ignoranza C'era C'era V-Blade Con sto robo Bellissimo V-Blade Ok Adesso dove dobbiamo andare Dobbiamo tornare indietro V-Blade Che è che guardava i V-Blade Chi guarda i V-Blade Perché magari ci sono ancora Che non Sinceramente non lo so V-Blade Pam 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 Opa là Vedete adesso vi potete anche sganciare Oh bravissimo E lo so usare diciamo Circa Bisogna di un po' di pratica Bravissimo ancora Bisogna di un po' tanta pratica Sì C'ha dei problemi mentali Link mi sa Aspetta perché è chiuso? Perché è chiuso? Non lo so perché è chiuso Non ne ho idea del perché si è chiuso Comunque Allora praticamente voi potete usarlo anche sulla terraferma Però avete un tot di Ah aspetta ma c'era Preso Avete un tot di energia Dopo che l'energia Dopo che si è scaricata Porca vacca Dopo che si è scaricata quell'energia Eeeh Crolla No no ma io di qua non ci passo No no vi siete matti Dove c'è che dovevo andare? Ah di qua No Ah sopra Dannazione Ok ok no ci siamo ci siamo Calmi Sì però qua ci siamo ste Che schifo Ma sarà roba da mettere Dai Molta saldo Ma levati Via Via Fuga 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 Ah volendo c'erano gli arampicchini Vabbè Ok quindi dal di qua Io mi sono lanciato come un deficiente Ma Non ho notato che qua c'è questa E via Adesso è tutto così No No Mi riporta all'inizio della stanza Tratto Perché Ah bisogna sganciarsi Svamp Vi dovete sganciare con B Vi lanciato praticamente Poi occio Perché se continuate ad andare avanti Va dove cacchio li pare Fino a che non si scarica Dopo un po' finisce l'energia roteante E quindi Si scarica Cioè per non farlo scaricare Dovete Aggrapparvi a qualcosa Aggrapparvi a una di quelle Rotaie che ci sono lì Ora Questo è l'ultimo piano mi pare Mi pare che questo sia l'ultimo piano che possiamo Esplorare Spero di aver tirato su tutto Ecco lì no Lì mi manca quel robo Cos'è il piano terra Su due piani Eh lì Bisogna andarlo a trovare Ma guarda Sinceramente ti ringrazio anche Non mi hai fatto niente Testa di serpente Però sto morendo Ok allora dove bisogna andare Di qua Signo a sganciarsi al momento giusto Non so cosa sta succedendo Ah no ma quello scrigno lì è È quello del boss Adesso che ci penso Va bene questo lo voglio L'accetto volentieri È lo scrigno della chiave del boss Quindi per forza dobbiamo prenderla Non so quando Occio Occio di qua che l'ho visto Mi raccomando tirano su tutto Che non sia mai Magari ci danno qualcosa di buono Mai eh Proprio mai Ok Non so dove devo andare Però per arrivare sopra Ah però mi hai ridato tutti i cuori Grazie Grazie amico Dove cacca sto andando I don't understand Aiuto Ok Rivertigini ormai Dove devo andare Dove va Non so dove sto andando Cioè finché trovo gli scrigni Va benissimo Perché vuol dire che sono ancora In carreggiata Finché mi ritrovo fuori dalla mappa No Non va bene Dopo lì ci sono dei problemi Ma da che parte devo andare Penso mi rimanga solo quello Che è sopra Penso mi rimanga solo quello Quello del boss Che dovrebbe stare di là sto punto Oppala Evitate sti cosi Uh Scontri Scontri tattici Bam Ok Va bene Cioè a me va benissimo Va bene tutto Ben completato Un'ora Forse con Una decina di minuti di taglio Però va bene Allora adesso dove dobbiamo andare Per il boss Al terzo piano è sopra Ok Per arrivare da lui però In primis Questo va attraversato Ah 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 Qua si rotta Qua si rappa Non lo ricordo ancora Qua si rappa Yeah Yeah Non so cosa alzi Fa giro Vedete che fa girare gli ingranaggi E ok Ah per far spostare quella Yeah yeah Qua si rappa Sarebbe un mister bob qua però Oppala Piripiri Pirim 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 Perché sto pezzo Perché c'è sto pezzo Scusate Che senso avrebbe Ah forse mi dovrebbe dare Una spinta No 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 Aspetta aspetta Che non ce la fai Non ne la fai Link Sì ma dovresti salire Sopra Eh Ci ha provato Dai Link Vai Vai piccolo Bravo Ok E il 3 si sale Ok Vedete quel robo al centro Noi dobbiamo andare lì eh Noi dobbiamo andare quel robo in mezzo Quindi mi sgancerei di qua Ci provo Pensavo di doverlo fare con Con sto robo Vai Rappa rappa Yeah yeah Rappa rappa Spam Luce accese Questo sale Dobbiamo arrivare al terzo piano Cosa Ma sale tutto Porca vacca Vai bello Vai bello Vai bello ci siamo Ci siamo Ci siamo Fai mi controllare Abbiamo Abbiamo tutto Siamo pronti Per ciò che dobbiamo affrontare Non mi ricordo il boss E invece sì che me lo ricordo Ah me lo ricordo sì Abbiamo tutto Per sicurezza Mi porterei questa Che tanto la lanterna non ci serve Ci serve il disco E l'artiglio Forse le bombe Forse nient'altro Ah Adesso me lo ricordo Ancora meglio Adesso me lo ricordo Ancora meglio Risata che non si addice Per niente Uh Uh Sei arrivato vivo fin qui Ti meriti davvero Il titolo di eroe Tuttavia è un vero peccato Temo che questo sia il nostro Ultimo incontro Porca vacca Lui non me lo ricordavo Era a sua la risata La Porca vacca Eccoli Come capire che un nemico è vivo Agli occhi Questo è lo stall qualcosa Allora mi ricordo Mi ricordo in parte Come si combatte Stal lord Il fossile del crepuscolo Ok E vai E rieccoci Ah ok Ok Dove erano rimasti? Erano i due Allora come si fa Sto coso? Oddio ma è matto questo Fuori di testa Allora si Questo Questo robo si batte Alla base Quindi voi vi lanciate Andate a colpirlo sotto qua Bam E li fratturate una costala Boom Lui cade Credo Dovrebbe cadere Non cade Cade o non cade? Boom Sta di fatto che Vedete che Lancia gli scheletrini Quelli sono i suoi compagni E vi rispingono Ok Questo me lo ricordo bene Bisognava fare tipo Uno slalom Uno slalom Tra quei robo Uuuuh Stiamo a carmi eh Aia Permesso 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 Niente E' un po' tipo Bullying Ah lui non gliene frega niente Dei suoi compagni No becca è questo Ciapa Ma dobbiamo spaccargliela tutta Pensavo un colpo dopo l'altro Che qua Guarda che si è fatto là Uuuuh Sono bloccato Sale link Sale link Per il tuo bene Bravo Il tempissimo Ma sbaglio Sono aumentato Quelle cacchi di Di lame È pieno Tanan 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 Nanana Guarda sti cacchi di Di Scheletrini Maledetti Guarda Guarda Sono immuni Si sacrificano Per 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 Suo Cosa Che vi schiacciano anche Ma siete scemi Non gliene frega niente Porca miseria Porca miseria Vengo a tritarvi tutti Permesso Permesso e grazie Non so come si fa lì allora Bisogna esco di dare un'altra strategia L'ho preso Non l'ho preso L'ho preso loro Sai che gli ho ucciso i figli Grazie Mi ha dato uno spintone Per salire Grazie mille amico Adesso vengo a prenderti Dai tranquillo Occio E boom Tre colpi Però aspetta io mi ricordo No io mi ricordo che c'era qualcos'altro Ok si è spento Non è morto Perché Come ben voi potreste già aver capito Se figlia non esplode Non va bene Ok Bene Bene Facciamo selfie col morto Selfie Basta Basta Non c'entrano cacchi Peccato che non sia Zelda Avrei fatto The wild L'avrei fatto davvero Va bene Reppiamo un po' Giusto Aspetta Fammi reppare davanti al cadavere Vabbè Perché ce lo dobbiamo portare dietro quel robo Fa un po' schifo Scusa Se permetti Senti come vibra Vieni Peccatevi un po' di vibrazioni Ecco qua Ma buongiorno Buongiorno principessa Mi buttare giù almeno Grazie Disisparta enorme Allora come funziona Semplicemente adesso Noi ci ruoteamo Finchè non lo troviamo Dovrebbe essere da qualche parte qua Adesso si ferma anche Finchè non lo troviamo Noi giriamo E lo assaltiamo poi Giusto Perché ci sei Eccolo lì Guardalo 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 Oh c'ho Oh c'ho E calla Boia tua Mortacci E' tutto da capo No dai Oh sei infame Finirai di sparare Con le fiamme Boom Ok Quando E quando è a terra Sbam 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 E via Ok Quanti colpi Eeeh Eeeh Perché l'abbiamo massacrato Via subito Via Andare 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 Ipa ipa Oh Quelli non sono belli per niente Queste spine non sono belle per niente Io spero che sia due colpi Non tre Perché se ancora tre colpi Ma va là Ma va là Posso tirare le bombardate No Magari lo bombardavo mentre salivo No eh E più che altro non si possono usare Cioè io adesso non potrei usare un altro oggetto Insieme a questo Ma come faccio a salire che ci sono le spine Nei momenti giusti Cioè quando devo saltare ci sono le spine Spara 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 Ti vengo a prenderli Io Te non hai capito Io ti vengo addosso Questo Io ho visto Ho visto il cartone di Beyblade Io so come si combatte Ok Ok Due colpi Boom Ed è finito lì Weeeeee Weeeeee Ho mai capito come fanno Tipo i cavalieri A infilarsela bene dietro Perfetta proprio Entra che perfetta Dentro la fodera Va bene Su Link andiamo Lo spezzo Eh lo spezzo Il pezzo Non è pezzo Lo specchio Specchio oscuro di fronte a noi Oh Dammi questo prima Dammi qua Quanti siamo Due quattro sei otto Dieci Due quattro sei otto Cacchi dieci cuori abbiamo già Nice Ok Dieci cuori va benissimo